www.redigio.it e la storia continua Leonardo da Vinci e il Naviglio E la descrizione di questo sistema di conche accopiate la troviamo a quest'epoca cioè nel 1447 fatta dall'architetto militare Francesco Di Giorgio Martini nel codice Membranaceo Saluziano al foglio 45 assieme al disegno di questi sostieni e vi si legge Eccosi per tutta la lontananza del fiume con detti porti le sue altezze di porte nelle quali il Naviglio o barca entrando serrato la porta per l'acqua unente il Naviglio e alzando subito vi caderà dentro e la seconda porta entrare potrà essendo quella per lo simile modo si alzerà e così dall'una all'altra porta di mano in mano il Naviglio desideri condur porrai è scritto in latino questa è una traduzione personale Leonardo da Vinci quindi non era ancora nato e già il principio altrettanto semplice quanto ingegnoso delle conche era applicato descritto e illustrato resta a vedere quali siano i perfezionamenti che Leonardo vi può avere introdotto il fumagalli nel tomo secondo delle sue antichità longobarde attribuisce a Leonardo tre perfezionamenti l'aver fatto i portoni la disposizione ad angolo di questi e gli sportelli aperti nei portoni presi al flusso dell'acqua in poche parole gli attribuisce l'invenzione di tutto il sistema riguardo all'ultimo perfezionamento osserveremo innanzitutto come non si possa per verità ammettere che l'applicazione dello sportello parte essenziale della chiusa sia stata ritardata fino al XV secolo i documenti del resto fanno risalire alla prima metà del secolo anche questo provvedimento infatti Leon Battista Berti nel suo trattato De Reaedificatoria pubblicato nel 1452 ha scritto qualche anno prima perché il biondo già lo cita nel 1450 dopo aver descritto le cateratte aggiunge e qui c'è un trattato in latino che ho difficoltà a ripetere comunque le quali parole non solo descrivono esattamente il sistema dello sportello ma danno le ragioni sulle quali si basava la disposizione del perno verticale e della lieve differenza delle due ali lo sportello lo sportello non può quindi essere considerato come invenzione di Leonardo venendo ora agli altri due perfezionamenti ammessi dal pomagalli i quali in fondo si riducono all'unico perfezionamento della sostituzione dell'incastro alle due porti verticali che si chiudono ad angolo si potrà osservare come dai vari disegni di Leonardo non si possa dedurre categoricamente che tale sostituzione si debba attribuire la parola conca impiegata fin dal 1443 assieme alla parola incastro vedi i capitoli del 25 giugno del 1443 potrebbe accennare fin dall'epoca a una disposizione nuova diversa da quella assaracinesca genuso nel secolo precedente del resto specialmente nel codice atlantico vediamo che dei disegni di chiuse tanto al sistema di porte angolari che assaracinesca e sopra entrambe le disposizioni pare che Leonardo abbia studiato dei perfezionamenti anzi nel disegno 333 del codice atlantico la notevole differenza della sua lunghezza delle aree allo sportello che è contrario al principio che vedemmo così ben descritto dall'Alberti fa supporre che il disegno sia semplicemente uno dei tentativi fatti dal Vinci per migliorare delle disposizioni che egli doveva aver già trovato applicate alle conche www.redigio.it e la storia continua www.redigio.it 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 Grazie.